Che cos'è? La crema con peperoncino. È un piatto tipico di? Peru. Peru, quindi peruviani siete. Sì, siamo peruviani, sì. Agnello, quanti siete? Sette, otto. Sette, otto. Di che nazionalità? Rumeni. Rumeni? Sì. Qui siete ancora indietro? Sì, no. Dovete ancora fare la braccia? Sì, dobbiamo ancora fare barbecue. Le signore invece aspettano? Prendono il sole? Sì, i mariti cucinano, le mogli invece riposano. Infatti, oggi sì. Cosa avete preparato voi? Noi abbiamo preparato sia il pesce per secondo, sia costine, capretto, di tutto e di più praticamente. Però vi trattate bene allora oggi? Certamente, dopo vent'anni, pensate. Dopo vent'anni io ritorno a fare il picnic. Sorpresa, all'idroscalo sono tornati i milanesi. Effetto della crisi, quest'anno a Pasquetta, ad armeggiare con barbe, cui braciole, non c'erano solo gli stranieri, da anni assidui frequentatori del mare di Milano, insieme ad egiziani, sudamericani e filippini, anche tante famiglie italiane. Perché qui i soldi sono finiti. E quindi si viene all'idroscatto? Prima qui c'erano tutti extracomunitari, no? Adesso siamo in cassa integrazione. E quindi tornano anche gli italiani all'idroscatto? Gli italiani, vedi? Vedi quante facce bianche ci sono.